segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te tu ce l'hai già ma insomma devo dare al nostro pubblico questa notizia attacco con droni nell'iraq occidentale colpite delle basi americane e io chiedo alla scuola mi stanno arrivando sul telefono se ci sono altre notizie specifiche attacco con droni nell'iraq occidentale alle basi poi il generale magari potrà darci una mano nel capire l'iran bussa la porta potrebbe essere droni iraniani no sono droni di milizie legate all'iran parisemente l'iran bussa la porta gli stati uniti erano stati avvisati siete parte del conflitto questa è anche l'altra comunque attacco a una base americana in iraq occidentale cremonesi a te